La Camera di Commercio di Trapani ha ospitato stamani funzionari dell'Inps e un pubblico di addetti ai lavori per illustrare i servizi ai cittadini, in particolare le prestazioni assistenziali, quelle richieste in massima parte da cittadini che spesso non hanno gli strumenti per interfacciarsi con il portale Inps o anche con gli uffici. L'Inps non ha nascosto che ci sono ancora molteplici criticità anche nelle relazioni con le imprese, i consulenti di lavoro, i patronati, anche per i diversi sistemi di inserimento dei dati, delle pratiche, delle informazioni richieste per l'erogazione di prestazioni e servizi. La strada però appare tracciata. Un ruolo importante l'Inps riconosce anche ai patronati dei sindacati, interfaccia collaborativa ormai irrinunciabile, come conferma Mimmo Binaggia, presidente del Comitato regionale dell'Inps. I cittadini si rivolgono ai patronati, quindi il patronato diventa il mezzo più utile che si può avere per essere vicini nei rapporti con l'Inps. Io in ogni caso che rappresento l'Istituto da un punto di vista regionale per la Sicilia come Comitato, credo che in questo lavoro le associazioni di categoria e il rapporto che c'è tra i patronati e l'Istituto abbia ulteriormente, con i protocolli che si sono fatti, ulteriormente agevolato questa possibilità. Quindi oggi ci sono pratiche rinnelle, veloci, rapidi nei tempi, per cui i cittadini una volta che si rivolgono ai patronati credo che abbiano delle risposte nell'immediatezza. Quindi questa sinergia che c'è fra l'Istituto e i patronati credo che sia fondamentale.